Lucca sarà ancora una volta protagonista di un viaggio nel mondo della scienza moderna del cuore in tre intense giornate di lavori. Ora è ufficiale, l'edizione di Cardio Lucca 2023 si terrà dal 22 al 24 giugno nella cornice dell'auditorium di San Francesco. L'iconica grafica voluta dal professor Francesco Bovenzi, direttore della cardiologia di Lucca e presidente dell'evento, mostra una mano bionica che regge un simbolico cuore anatomico, a sottolineare il tema centrale del rapporto tra le innovazioni tecnologiche e il sistema salute. Ed è proprio questo il tema al centro dell'edizione 2023, l'avvento dell'intelligenza artificiale e medicina destinato nel breve periodo a produrre importanti mutamenti nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie. Numerosi relatori provenienti da ogni parte d'Italia daranno vita ad approfondimenti che spaziano dalle tradizionali tematiche sulla prevenzione, infarto, scompenso e aritmie, fino ai cambiamenti organizzativi del dopo pandemia con la medicina digitale. Sono i temi della medicina moderna, quindi soprattutto della cardiologia, spaziano dall'infarto, quindi alla cardiopatia ischemica, allo scompenso cardiaco, alle aritmie, alla prevenzione cardiovascolare. E poi quest'anno come elemento nuovo c'è tutta la problematica legata a come inserire l'intelligenza artificiale nel mondo sanitario e come questa può cambiare gli scenari della salute, in particolare cardiovascolare. Per cui ci sono aspetti molto interessanti, studi in corso.